Ciao a tutti, benvenuti a DopoGP, siamo qui ad analizzare la sesta prova del Mondiale 2016 Grand Premio d'Italia al Mugello, ricco di colpi di scena, non tutti piacevoli certamente, lo facciamo con, al solito, di fianco a me, Giovanni Zamani, ciao Gio. Ciao a tutti, ciao Nico. E di fronte a noi, il grande, imperscrutabile, l'ingegnere Giulio Berardini. Posizialmente vuoi dire. Oh, è stato di gente al Mugello, ma c'è l'ingegnere il martedì a DopoGP? Ci sono andato perché non mi posso esporre molto. Dell'ingegnere abbiamo bisogno più che mai, voi sapete che il taglio del nostro DopoGP è soprattutto tecnico e naturalmente in questo caso con il motore arrosto di Lorenzo Normap e di Valentino in gara, con la grande delusione, perché insomma partiamo da lì, partiamo da Valentino Rossi, era messo particolarmente bene, Giovanni? Sì, 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 l'ha messo molto bene, secondo me, non dico che avrebbe vinto facile perché è impossibile, però aveva buonissime possibilità di vittoria, ma l'ha detto lo stesso Lorenzo, a fine gara, ha detto sarebbe stato difficile battere Rossi, perché ha detto Lorenzo, ma ha detto Zellenberg, che è il suo cadalora, che Zellenberg gli ha detto che l'aveva visto Valentino molto molto a posto. Giulio, tu come l'hai visto Valentino? Sembrava soprattutto sul guidato avere un bel vantaggio. Non l'aveva staccata alla San Donato, dove appena forzava era quasi inevitabile andare larghi. Quest'anno è migliorato soprattutto nei cambi di direzione, secondo me, che era il punto forte di Lorenzo l'anno scorso, invece quest'anno con le Michelin che hanno un po' più di maneggevolezza, rendono la moto un po' più maneggevole, Valentino si trova bene e di fatti sulle S riusciva a ritornare sotto a Lorenzo in maniera quasi istantanea, per cui obiettivamente sembrava poter avere quel decimo due in più quasi per poter vincere la gara, però obiettivamente la sfortuna c'è stata. Nono giro, rottura del motore. Allora, le vostre domande sono naturalmente tantissime, tutte concentrate lì, non faccio nomi, sono tanti che chiedono, ma alla fine la confusione è tanta, perché noi dobbiamo chiarire. Intanto, quanti sono i motori punzonati utilizzabili da ogni pilota? Durante la stagione, per quanto riguarda Yamaha, Honda e Ducati, i motori utilizzabili sono sette. Suzuki e Aprilia invece ne possono usare due di più, perché non hanno fatto podi nell'ultima stagione. Però Honda, Yamaha e Ducati, sette motori. Ancora da chiarire, nei box i motori non si aprono, i motori si aprono soltanto in Giappone o nelle basi europee. Questo ad onore del vero avviene da tantissimi anni, da quando un po' è partita la MotoGP con il quattro tempi. Va chiarito perché i tecnici in pista, i motori non li toccano. Allora, dopo una rottura, come è capitato a Lorenzo nel warm-up, la gente si domanda, ma non potevano mettere un motore nuovo a Valentino. Chiaramente non si può mettere un motore nuovo per la gara senza averlo usato prima. Questo lo dirà il tecnico, ma già nel team ti hanno spiegato. Galbusera ti ha spiegato. Ha detto bene Silvano Galbusera, ha spiegato che non si mette mai un motore nuovo per la gara. Cioè un motore che non ha fatto nemmeno un chilometro non si mette mai. Tra l'altro il motore di Valentino aveva fatto comunque molti meno chilometri rispetto a quello di Lorenzo. E dopo lo vediamo nel dettaglio, perché abbiamo tutta la rotazione dei motori, perché anche questa è una curiosità dei nostri lettori, quanti motori si utilizzano nell'arco di una gara, tra prove e gara? Due, tre motori? Di solito se ne utilizzano quasi sempre due, nel senso che viene tenuto il motore più fresco per la gara e di solito il motore più fresco fa il warm up e la gara. Quindi viene messo alla sabato sera, sostanzialmente quando è finito il turno di prova ufficiale, la moto migliore, quella che viene individuata dal pilota come una moto da gara, viene sostituita il motore e viene messo il motore fresco che viene usato dalla domenica mattina. Noi abbiamo, dopo le vediamo insieme, le tabelle che danno la vita di questi motori. possiamo sapere, per ogni pilota la donna distribuisce questo documento, il sabato sera dopo le qualifiche e la domenica mattina dopo il warm up, da sempre, da quando c'è il congelamento dei motori, la donna fa questo, quindi è tutto chiaro. E allora appunto, prima di entrare nel merito, il regolamento che cosa dice? Cioè i motori sono sette, sono punzonati, sono fermi dall'inizio dell'anno oppure man mano che servono vengono punzonati lì per lì? Come va? Certo, non è detto che sia così, nel senso il regolamento come, senza voler fare polemica, ma come spesso avviene nel regolamento della MotoGP degli ultimi anni, obiettivamente è fatto un po' in maniera quasi a livello di compromesso, per accontentare un po' tutti certe volte. Quindi c'è questo regolamento del contingentamento dei motori, il regolamento tra l'altro dà la possibilità al produttore di fornire motori di specifica diversa a team diversi, quindi tra Tech3 rispetto al team ufficiale o comunque tra i vari team satellite della casa rispetto al team ufficiale e addirittura concederebbe la possibilità di fornire una specifica diversa ad un pilota rispetto all'altro. Però nel momento in cui è stato stabilito ad inizio stagione, questo avviene il giovedì sostanzialmente del primo weekend di gara, nel momento in cui è stata stabilita la specifica del motore, quella specifica lì deve essere utilizzata, la specifica meccanica diciamo, cioè tutto quello che viene sigillato, quindi quello che viene lubrificato sostanzialmente, escluso il cambio. Quella specifica lì deve essere utilizzata fino a fine stagione da quel pilota. Questa cosa qua diciamo è molto chiara. In realtà poi ci sono delle differenze rispetto a come deve essere dichiarato alla federazione la specifica del motore e ci sono in particolare due possibilità, cioè il costruttore può scegliere di andare lì il giovedì della prima gara e depositare tutti e sette i motori che vengono sigillati in una volta sola in una soluzione unica, poi li utilizza durante l'anno, oppure può consegnare al tecnici della federazione una sorta di campione, che vuol dire un motore anche non completo, dove c'è un pistone di riferimento, una valvola di riferimento eccetera. E questo campione qui viene utilizzato per controllare poi che i motori che vengono sigillati durante la stagione man mano che il team li utilizza, siano effettivamente uguali al campione che è stato rappresentato. I controlli vengono fatti o non vengono fatti? Poi alla fine chi controlla e quando? I controlli diciamo vengono fatti, allora il regolamento dice che possono essere fatti solo durante la stagione europea di gara, quindi non possono essere fatti durante le gare oltreoceano e devono essere definiti dalla federazione, quindi dal direttore di gara, che si mette d'accordo con il team o con il costruttore per andare a mandare, ad essere presente durante una verifica che viene chiesta o che lui decide di fare. Direttore tecnico? Direttore tecnico sì, direttore della federazione. E quindi diciamo che i controlli sono a discrezione, non sono stabiliti, non sono fissati come calendario, ecco sono a discrezione. A discrezione del direttore di gara oppure sul reclamo di un concorrente? Oppure sul reclamo di un altro team o di un'altra casa. Ecco, però queste specifiche sono immutabili perché in questo caso cosa si è rotto? Una valvola probabilmente? Si è rotto qualcosa nella parte alta del motore perché quello che succede quando si vede questo fumone bianco dallo scarico è il classico invasamento, cioè vuol dire che qualcosa in camera di combustione, è entrato in camera di combustione, olio e acqua, acqua soprattutto e quindi vuol dire che si è rotta la parte alta che viene raffreddata, la zona della testata, probabilmente perché è scesa una valvola oppure ha ceduto una viella. Ecco allora in questo caso mettiamo che appunto si è parlato di pezzi difettosi o di montaggio di fettosi. L'ha detto Valentino, potrebbe essere che è una campionatura di motori con dei problemi di montaggio. E lui ha parlato di un lotto di pezzi difettosi che è arrivato a un certo chilometraggio, quindi automaticamente lui ha fatto capire, si può leggere tra le parole che lui ha detto, che Yamaha ha scelto appunto di andare a sigillare i motori durante l'anno non tutti, e probabilmente questa è stata la scelta di tutti i costruttori sicuramente, durante l'anno, non tutti e sette prima della stagione e quindi automaticamente viene da chiedersi ma se il pezzo, il particolare deve essere uguale al particolare fornito come campione, al motore fornito come campione, come si fa poi a risolvere il problema? Ecco in questo diciamo c'è un po' di... Una zona d'ombra del regolamento, perché in realtà, e qui dopo vi fermo perché andiamo a vedere la vita dei motori, è già successo l'anno scorso che un costruttore abbia detto al direttore tecnico, guarda devo modificare un pezzo per questione di sicurezza. È successo con la KTM in Moto3, se vi ricordate l'anno scorso la KTM all'inizio campionato avevano avuto un sacco di problemi di affidabilità e poi non mi ricordo se proprio da Jerez, mi sembra la KTM poi erano intervenuti e avevano chiesto il permesso al direttore tecnico che in quel caso gli era stato accordato, perché è a discrezione del direttore tecnico. Io so che... E previa, diciamo il regolamento dice previa un'animità dell'MSMA, cioè dell'organo dei costruttori, all'unanimità. Infatti io so che quando è successo in MotoGP, è successo qualche volta che qualcuno chiedesse degli interventi, so che sono stati negati, però dopo poi c'è la sicurezza, perché come dice l'ingegnere è vero che... Il regolamento dice la sicurezza deve essere salvaguardata. È chiaro però che probabilmente la rottura è avvenuta per una ragione di chilometraggio, quindi probabilmente anche se fa molti pochi chilometri questi motori, però questo componente qui ha vita ancora inferiore rispetto a quello che è il chilometraggio previsto, però è anche avvenuto perché su questa pista, il Mugello e probabilmente sulla pista di Barcellona, veniva usata una specifica di taratura elettronica leggermente più aggressiva, diciamo soprattutto come limitatore di giri. Si può intervenire a cambiare certe specifiche. Volevo fare una domanda all'ingegnere, Niko, se posso, nel dopogara del Mugello qualche tecnico ha ipotizzato, ma proprio ovviamente ipotizzato così, che potesse... la rottura del motore di Valentino potesse essere stata determinata da un fuorigiri in staccata. È una cosa velo simile, non velo simile, possibile secondo te? È una cosa possibile, nel senso che il fuorigiri se avviene, avviene sicuramente in scalata. Non c'è un limitatore. Perché il limitatore in quel caso lì non può intervenire, nel senso che è un trascinamento meccanico della ruota posteriore e non può essere fatto niente per limitare questa salita dei giri se non dal pilota che tira la frizione, però va automaticamente lungo ed esce di pista molto probabilmente. Quindi se c'è stato fuorigiri sicuramente è venuto in fase di frenata. Allora, guardiamoci queste grafiche che potete vedere anche voi in sovrimpressione e sulla vita dei motori. Partiamo da Valentino Rossi. Voi potete vedere che nelle ultime tre corse, Gerez, Le Mans e Mugello, si vede che Valentino ha utilizzato, alternato tre motori. Giovanni, ci puoi dare una spiegazione? Qui Valentino col motore 3, quello che ha rotto al Mugello in gara, di fatto cosa ha fatto? Poca roba. Lui ha fatto FP3, FP4, Gerez, Q2, warm-up e gara a Gerez. Invece Aleman ha fatto solo warm-up e gara e al Mugello warm-up e gara. Si invece andava a vedere Lorenzo? Si vede che il motore di Lorenzo è stato utilizzato molto di più perché a Gerez hanno fatto lo stesso tipo di prove, cioè FP3, FP4, Q2, warm-up e gara. Ma a differenza di Valentino, Lorenzo Aleman ha utilizzato il motore numero 3 anche nell'FP3, nell'FP4 e in Q2, oltre che nel warm-up e in gara, e lo stesso è avvenuto al Mugello. Quindi se il motore di Lorenzo comunque era effettivamente più stanco, si vede che invece quello di Valentino è stato giusto non intervenire, avevano molti meno chilometri, quindi erano sicuramente dentro al... Sì, loro diciamo la cosa l'hanno sicuramente valutata. Tra l'altro questa doppia rottura fa vedere che la scelta della Yamaha è di trattare i due piloti molto probabilmente con la stessa specifica, anzi quasi sicuramente con la stessa specifica di motore, quindi non andando a dare, diciamo, motori leggermente diversi tra Rossi e Lorenzo. Ed obiettivamente il calcolo del chilometraggio loro probabilmente l'avevano fatto dopo la rottura del warm-up. Certo. Diciamo che è stato veramente molto fortunato Lorenzo perché bastava solo qualche giro in più, qualche giro in meno. Ma quindi Lorenzo secondo te in gara poi ha montato il motore, un motore nuovo e quindi ha rischiato un motore nel suo piano? Questo non lo sappiamo, speriamo la prossima volta diciamo. No, perché dopo la gara non viene distribuito, no? No, molto probabilmente sì, molto probabilmente sì. Molto probabilmente avrà usato il motore quattro, non avrà utilizzato il due o l'uno? Probabilmente ha usato il motore quattro. Questo lo sapremo alla prossima gara. Perché diciamo il due o l'uno sarebbe stato comunque un rischio. Eh sì, perché guarda, con il motore uno Lorenzo ha corso all'Osarile e in Argentina. Con il motore due... Tanto. Ci ha fatto tantissimo col due. No, però c'è un incongruenza nel motore di Lorenzo perché sembra che abbia fatto la gara in Argentina sia con il motore uno sia che con il motore due. No, perché c'è stata la ripartenza e quindi ha usato la seconda moto. Due partenze ha usato due moto diverse, due motori diversi. Ah, beh, giusto. Quello torna. Però ecco, le cose interessanti da notare sono, e molti lettori ce le chiedevano, ma nell'arco di una trasferta si usano anche tre motori diversi, come capita guardando la tabella di Lorenzo e di Valentino. Addirittura Marquez, e vediamo la grafica, Marquez è già al quarto motore da Cherez, dall'AFP2 di Cherez ha tirato fuori il motore quarto. Eh sì, perché aveva avuto un problema nella AFP2, sembrava che avesse fatto un lungo alla prima curva, invece aveva parcheggiato la moto e dopo aveva detto c'è stato un piccolo problema, però non si è mai saputo quale. Ecco, per esempio, Marquez ha usato a Mugello il motore due, il motore quattro. Ecco, quanti chilometri fanno mediamente questi motori? Ah, diciamo che facendo un calcolo sono tra 500 e 600 chilometri per ogni weekend di gara, il regolamento impone l'utilizzo dei sette motori nei weekend di gara, quindi poi lascia libertà alle case di fare sostanzialmente quello che vogliono durante i test. quindi fa veramente poca strada, fa 1200-1500 chilometri sostanzialmente un motore. Ecco, tra l'altro questi motori qui, cioè con il regolamento attuale che limita l'alesaggio a 81 mm su piste veloci dove è un vantaggio avere più a lungo, obiettivamente il motore soffre parecchio perché sono motori che hanno una corsa abbastanza lunga e quindi sono molto stressati da un punto di vista proprio strutturale. Ho un'altra domanda per l'ingegnere Nico, se posso. Allora, fino all'anno scorso c'erano 5 motori e lo stesso numero di Gran Premio, quindi 18 Gran Premio. E fino all'anno scorso non ci sono mai stati problemi di affidabilità perché, l'ha ricordato Valentino, l'ultimo motore rotto dalla Yamaha in gara era stato nel 2007 a Misano, quindi dopo quasi 10 anni non ci sono stati problemi. Ci può stare che, siccome sono aumentati il numero dei motori, sia stato aumentato il regime di rotazione per aumentare la potenza, tanto il chilometraggio di ogni motore cala rispetto all'anno scorso, quindi ci può stare che... No, no, non è che ci può stare, è sicuramente così e questo è dovuto anche al fatto che lo scorso anno, era vero che c'erano 5 motori, ma ricordiamoci che c'erano anche 20 litri e quindi questo limitava comunque la possibilità di andare ad esagerare con la prestazione del motore, soprattutto in fase di accelerazione. Quindi quest'anno sicuramente il salto di prestazione c'è stato e quindi i motori sono più in crisi. Un'altra curiosità, siamo soltanto alla sesta gara e già utilizzati 3-4 motori in casa della Honda su 7, non siamo fuori media, no? No, no, non siamo fuori media perché anche l'anno scorso, mi ricordo di questo periodo, Marquez aveva già usato 3 motori su 5 perché se vi ricordate aveva rotto ad Austin durante la qualifica, quando poi fece quel numero di andare a correre a prendere la seconda moto, eccetera. E fare la pole. Quindi siamo in linea per il momento. Va bene, con i motori penso che abbiamo abbastanza chiuso, noi avevamo lanciato il sondaggio per conoscere da parte vostra chi avrebbe vinto al Mugello, Rossi per voi era il naturale favorito per il 48,21% di voi, Annone seguiva il 24,85%, dopo ne parleremo di Annone della grande occasione sprecata, Lorenzo era solo al 15,93% ma addirittura Marquez col 3,34% di voi era dietro a Vignales, quindi sorpresa invece la Honda qui si è rivelata molto più avanti di quello che nell'immaginario collettivo sembrerebbe. Passiamo a Lorenzo invece perché Lorenzo ha vinto una gara bellissima perché la sua è una bella vittoria di quelle da ricordare con un duello finale che ha acceso l'entusiasmo e ha dato anche un po' di amarezza pensando com'è finita la stagione 2015 senza belligeranza quando invece qui pur di vincere si sembrava che si dovesse raccoltellare. Sì, diciamo, Marquez è stato leggermente più aggressivo che non a Valencia, appena, appena. Ecco, Lorenzo, la staccata era suo forte, alla San Donato era grandioso, sembrava un pochino meno a posto di Valentino ma forse anche di Marquez che pure non aveva una moto stabilissima dentro le curve. Questo mi ha un po' stupito a te? No, a me non ha stupito molto, nel senso che quest'anno per quanto si è visto fino adesso Valentino con le Michelin ha fatto un salto di qualità rispetto alle Bridgestone dove l'anno scorso pure andava molto forte, però quest'anno è veramente forte e si trova bene soprattutto nel guidato, cosa che lo scorso anno invece era dietro rispetto a Lorenzo. e Lorenzo va forte solo che va forte soprattutto con delle situazioni come la staccata, ecco, quindi non è sempre perfettamente al 100%, ecco, lo è stato poche volte paradossalmente quest'anno e in questa gara qui del Mugello probabilmente lui vedendo quello che ha fatto Valentino nei giri in cui c'è stato, che lo riprendeva anche dopo qualche lungo, lo riprendeva in 3-4 curve e vedendo anche quello che poi verso il finale di gara è riuscito a fare Marquez che pur è in difficoltà perché Marquez quest'anno, ricordiamoci, guida forse una delle peggiori onda degli ultimi anni, ecco, quindi questo lascia a pensare che non fosse diciamo al 100% il setting di Lorenzo per essere competitivo, quindi questo da merito a lui perché è riuscito a battagliare, è una gara che ricorda un po' Silverson di 2-3 anni fa, infatti lui l'ha avvicinata quella di Silverson del 2013. E tu Giovanni come l'hai visto Lorenzo e poi secondo te per Valentino tramonta ogni chance o no? Allora, su Lorenzo io ho da fare questa considerazione, lui parte sempre fortissimo il venerdì, lo ha sempre fatto anche in passato e lui il venerdì sera dopo l'FP2 è nettamente quello più a posto perché nell'FP2 poi gli annoni aveva fatto un gran tempo montando la gomma nuova ma lui di passo era nettamente superiore agli altri, poi però lui si stabilizza lì, è già successo a Le Mans, è successo anche nel Gran Premio precedente, lui fa fatica a migliorare o comunque non riesce a stare al passo di quello che fanno gli altri, questa è una considerazione che invece non gli succedeva l'anno scorso perché lui l'anno scorso partiva fortissimo e andava avanti fortissimo, quest'anno fa un po' più di fatica, poi a me è piaciuto molto comunque come ha gareggiato, l'ultimo giro è stato bellissimo, quel sorpasso alla Biondetti, lui ha detto questa cosa, mi sono ricordato di quando ho fatto con De Angelis, ma con De Angelis aveva una 250 che pesa 90 kg, 95 kg non mi ricordo e aveva la metà dei cavalli di questa, meno della metà dei cavalli, insomma, quindi è stato difficile, è vero che poi è andato largo, però ci ha provato, è entrato forte e poi è uscito lento per forza di cose, ma secondo te Valentino devi dare l'addio alle chance oppure no, come pensano molti? Allora, è uno zero molto diverso rispetto a quello precedente perché quello precedente era stato causato da un suo errore, però è stato pareggiato dagli altri errori, adesso è difficile sinceramente pensare che ci sia un altro problema tecnico per un altro pilota, almeno negli ultimi anni abbiamo visto questi motori super affidabili, quindi è uno zero molto pesante, però è un Valentino che va fortissimo, mi muore di vedere, qui andava più forte sia di Lorenzo sia di Marquez, quindi io dico che è ancora in gioco. Ci vediamo la classifica della gara prima di proseguire, perché ancora non l'abbiamo vista, quindi vantaggio di 19 millesimi soltanto per Lorenzo su Marquez, grazie al motore, o perlomeno per colpa di un altro motore, quello Honda che è decisamente scarso in accelerazione, però poi lì c'è una curiosità di qualche elettore, Iannone terzo staccato di 4 secondi e 7, prevale su Pedrosa di poco, Dovizioso invece che era più avanti con problemi alle braccia precipitato al quinto a 6 secondi e 2 e Vignales, Vignales 8 e 60 al sesto posto, di tutti parleremo anche di Petrucci che invece ha chiuso ottavo e decimo Pirro. Allora, sì, di Lorenzo tu cosa dici? Hai da aggiungere qualcosa? No, Lorenzo ha fatto una gara incredibile e sicuramente l'ultima curva, diciamo la Yamaha è riuscita, io penso sia stata soprattutto la traiettoria comunque che lui ha fatto meglio rispetto a Marquez nell'ultima curva, probabilmente anche senza volere, lui è uscito in maniera migliore per quanto riguarda l'accelerazione, comunque la Yamaha è uno dei rarissimi casi almeno che io ricordi, ha vinto di motore. Sì, di solito non succede, ma Proie per esempio, sono tante curiosità riguardo alla Honda, c'è chi dice che Honda alla fine invece va meglio di quello che dite voi oppure altri, in prova Marquez faceva numeri del circo per tenerla in gara, effettivamente ciclisticamente non sembra tanto equilibrata, però Proie dice, penso che Marquez abbia perso la volata per colpa dell'anti-wheeling, si nota chiaramente che fuori dalla Buccine, dato sul cordo, era impennato un po', lì c'è stato un taglio. Si vedeva nelle immagini, effettivamente però è difficile. Questo l'ha detto lui anche, scusami ingegnere, perché lui ha detto, quando io sono uscito dalla Buccine ho sperato che la moto non impennasse come ha fatto invece in realtà ogni volta è uscito dalla Buccine da venerdì mattina a qui, quando la moto si è impennato ho capito che avrei perso la volata, questo ha detto Marquez. Si, questo ci può stare, il fatto potrebbe essere un intervento un po' troppo aggressivo comunque, perché obiettivamente si è vista poi che quando è successo questo episodio qui, che più o meno è contestuale all'inserimento della marcia più alta, l'accelerazione della Yamaha rispetto alla Honda è, la Yamaha ha mantenuto, la Honda invece è caduta molto l'accelerazione, quindi Lorenzo è riuscito a rimontare. Io penso che più che altro sia dovuto proprio alla traiettoria, anche perché se avesse fatto una traiettoria migliore, ricordiamoci che in ingresso di curva c'erano quasi toccati Lorenzo e Marquez, ecco se Marquez avessi fatto la traiettoria ideale probabilmente non avrebbe perso la velocità. Non ha perso per colpo del motore secondo te, ha perso perché ha sbagliato Marquez? Ma non ha sbagliato, nel senso che lui comunque ha tentato in ingresso e lì saranno quasi toccati, quindi dopo le due traiettorie sono state più che altro dovute alla necessità di non cadere sostanzialmente. Ha perso sicuramente perché la Honda non è perfettamente a punto, perché la Honda degli altri anni comunque quel frangente lì di motore ne avrebbe avuto molto. Ci vediamo alla classifica del campionato mondiale a questo punto, con lo 0 di Valentino il distacco diventa pesante, 37 punti, Lorenzo quota 115 con la terza vittoria, Marquez in segue ha 10 punti e con 2 vittorie, ciascuno di loro ha 1-0 per lo meno, Marquez ha un 3 che è quasi 0, e Rossi invece con i due zeri e l'unica vittoria adesso è indietro. Pedrosa segue 66 davanti a Vinales. Ecco, vorrei però parlare di Ducati, perché se c'è il grande dispiacere di un'occasione persa da parte di Valentino che si poteva giocare alla vittoria e invece è stato buttato fuori da una rottura meccanica, anche per Ducati il dispiacere è grande, perché la grande occasione di vincere, qui c'era Giovanni? Sì, 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 c'era la grande occasione di vincere, purtroppo mi sembra che in Ducati per qualche motivo manca sempre qualcosa, o la qualifica o i primi giri o gli ultimi o la partenza, insomma c'è sempre un qualcosina che va male. Giannone è evidente che ha perso la possibilità di giocarsi la vittoria in partenza, basta andare a vedere il cronologico, cioè lui dopo 5 giri aveva già un distacco di 4 secondi e 4, che poi è più o meno quello con cui è arrivato nel finale, nonostante poi abbia dovuto fare un sacco di sorpassi eccetera. Quindi aveva il passo per stare, perlomeno per stare con Lorenzo Marquez. Ha fatto il giro veloce all'ultimo giro. E ha fatto il giro veloce all'ultimo giro, se guardiamo le velocità massime sono impressionanti, e ha fatto il nuovo record assoluto con 354.9, che è quindi una velocità pazzesca. Insomma è chiaro che Giannone aveva le possibilità di giocarsi in partenza. Cosa ha sbagliato in partenza? Lui dice problema di frizione allo stacco. Lui dice che non ha il feeling, non sente la modulabilità, però il confronto con Dovizioso parte sempre bene. Era tredicesimo Dovizioso, quindi in quinta fila. Era tredicesimo, però mi sembra che la prima curva fosse quinto o sesto, insomma. Quindi la differenza è notevole. Lui ne ha provate tantissime durante il venerdì e il sabato, però evidentemente c'è qualcosa che non funziona bene in partenza. È un peccato, perché davvero la Ducati poteva vincere secondo me. Sembrava che chiarite le questioni di mercato, cioè confermato Dovizioso e invece sistemato via non in Suzuki, le cose potessero tornare più equilibrate in Ducati. Invece sembra sempre che la tensione, forse il Mugello, l'area del Mugello non fa bene alla Ducati perché non è facile. Ma non lo so, nel senso che comunque... Ci si aspetta molto. Però è anche la pista più conosciuta, quindi obiettivamente loro partono il venerdì con un setting che è già molto più a punto rispetto agli avversari, almeno su questa pista qui e così. Tra l'altro si è perso un turno di prove, quindi avevano quel piccolo vantaggio ulteriore. Certo, pesava di più la loro conoscenza. Perché l'FP1 di fatto non è stata disputata. Secondo me in Ducati comunque manca ancora quel livello di messa a punto che permette ai piloti di guidare in maniera più sciolta. Ecco, questa è un po' la caratteristica. Cioè la prestazione adesso c'è, la moto è molto forte, ha molta accelerazione, va bene anche nel guidato, però i piloti devono forzare molto, devono essere molto concentrati. Quindi quando durante la gara cala un po', c'è stato un momento in cui tra l'altro Dovizioso gira un secondo più vento di Iannone verso la quarta di gara. Anche fisicamente è impegnativa la cosa. E quindi questo penso che poi nell'arco della gara e poi nell'arco della stagione determini ancora un livello leggermente più basso rispetto a... Perché Dovizioso cosa dice esattamente? Beh, Dovizioso ha detto praticamente le parole dell'ingegnere, che la base c'è... Si vede che lo guarda sempre. Esatto, si, lo copia. La velocità c'è, però questa moto richiede troppa energia per essere sfruttata al meglio. Dopo lui come sempre non ha cercato scuse, ha detto la colpa è mia, mi si è indurito l'avambraccio, ho fatto dei lunghi, ho perso fluidità. Però c'è questa base e mi colpisce come la moto si è migliorata tantissimo. Faccio un riferimento al periodo di Dovizioso, no? In questi ultimi tre anni e mezzo. La moto è migliorata tantissimo, ma io Dovizioso questa cosa gliela sento ripetere dalla prima volta che ha provato la Ducati. C'è la velocità, ma ci manca fluidità. Quello fa parte un po' del DNA Ducati, credo che sarà difficile da togliere. Si, si, fa parte anche del DNA dello stile diciamo italiano, europeo, con cui si fanno le moto da corsa rispetto allo stile giapponese. Perché poi guardiamo la Suzuki, ecco, la Suzuki invece è dalla parte opposta. Ha molto meno motore, però è una moto molto più facile, sembra quasi... Più leggera. L'intervista sembra quasi una bicicletta a vederla. Leggerissima. E' un po' una filosofia costruttiva, una filosofia tecnica. E noi avevamo fatto un sondaggio naturalmente per sapere per voi lettori qual'era la ragione della crisi Ducati dopo Le Mans, chiaramente. E per il 39,21 di voi, il 39,21% è questione di gestione della squadra. A secondo posto invece la responsabilità dei piloti con poco più del 26%, le gomme il 20,98%, la moto soltanto per il 13,79%. Ci stupiscono queste sensazioni dei nostri lettori? No, perché poi riflettono un po' quello che si vede. Obiettivamente la gestione della squadra si è parlato tantissimo durante questa prima parte di stagione del mercato piloti, di Stoner prima, poi di Lorenzo, poi di chi rimaneva tra i due piloti attuali. Quindi è logico che lo spettatore e il lettore si è colpito da quello che poi viene detto. Parliamo un po' di Suzuki. Il tempo ci resta per parlarne un po' a lungo. Allora noi di Vignales cosa possiamo dire? Che in prova è un fulmine, la pole sembrava addirittura la sua portata. Eh sì. Cosa incredibile. Devo dire che Vignales in qualifica forse è stato il pilota più efficace perché comunque ha perso la pole per pochissimi millesimi ma l'ha persa a favore di Valentino che lui stesso ha tirato in qualche maniera. Quindi invece lui il tempo l'ha fatto da solo insomma. Quindi devo dire che in qualifica è stato il più veloce e addirittura dopo le qualifiche Valentino lo individuava come quello con il passo migliore. Secondo me non era esattamente così. Per me Giannone nel complesso è andato un po' veloce però comunque è andato molto molto forte. Però non è la prima volta che accade che poi in gara non riescono a ripetere gli stessi risultati. In partenza hanno avuto questo problema praticamente prima, seconda, terza quando ha messo la quarta è come se fosse, questo l'ha detto lui, come se fosse entrato il limitatore nella moto si è bloccata e naturalmente l'hanno sfigato in tanti. Però dopo lui comunque ha finito il primo giro davanti a Giannone ed è finito un bel po' dietro. Allora sentiamo l'ingegnere, secondo te cosa cambia tra prova e gara? Perché la Suzuki rende meno? Perché la Suzuki secondo me ha due limiti in questo momento. Uno ha il motore chiaramente che deve crescere a livello di prestazione, di velocità e di accelerazione ma quello è una cosa evidente e anche facile da programmare entro certi limiti. Mentre quello che è un po' più difficile è che la moto va molto bene quando la gomma è nuova e quando la gomma ha grip. Cioè sembra una moto che non è in grado di scaricare molto grip meccanico come invece lo scarica la Yamaha e lo scarica anche la Ducati. Ed è forse una cosa che va un po' all'opposto rispetto al fatto poi di essere facile da guidare e di essere maneggevole. Ed è stata fatta sulla forza riga della Yamaha. Esatto, è stata fatta con questo obiettivo qui di essere soprattutto una moto maneggevole e devono lavorare in Suzuki per trovare più grip meccanico. Perché poi quello che è cambiato dal sabato alla domenica è che la gara della MotoGP dopo la Moto2 soprattutto è stata corsa con temperatura leggermente più alta ma soprattutto con un asfalto che era completamente diverso dall'asfalto del sabato e quindi questo poi ha inciso in maniera sfavorevole sul grip. A proposito di questo, tutti i piloti dicono è diverso correre la gara, è diverso rispetto alle prove perché noi corriamo dopo la Moto2 mentre in prova noi giriamo prima la Moto2. Quanto incide? Incide parecchio perché comunque ormai con queste moto che sono abbastanza pesanti le traiettorie che al Mugello sono traiettorie obbligate e quindi la quantità di gomma che poi c'è sull'asfalto è molto diversa rispetto al sabato. Cioè la domenica è l'ultima gara, obiettivamente la pista è molto più gommata e questo va ad incidere su un asfalto come quello del Mugello in maniera sfavorevole a livello di grip. Di aprile cosa mi dici? Perché Bautista fuori il primo giro? Si tratta di Bautista, Bautista e Miller, Bautista tra l'altro deve essere operato credo domani, verrà operato domani, quindi insomma è stato un brutto incidente. E l'aprile purtroppo secondo me il giudizio è negativo perché Brad ha finito quattordicesimo ma a 40 secondi che fanno un secondo e sette, un secondo otto al giro. Se andiamo a guardare il giro veloce, Brad ha il penultimo giro veloce. Più lento di lui in gara è stato soltanto l'Averti di qualche centesimo e la differenza col primo è di un secondo e mezzo. Insomma mi sembra che i dati purtroppo... I numeri sono impietosi. I numeri sono tutti contro l'Aprilia. Perché? Ingegnere, tu ti aspettavi di più, cosa manca all'Aprilia? No, sinceramente per quanto si è visto negli ultimi due anni non ci si può aspettare molto di più perché poi probabilmente questo progetto non è così supportato soprattutto a livello di budget, quindi di disponibilità. Quello che si è visto in questi ultimi due o tre anni è che per entrare in MotoGP la scelta giusta l'ha fatta prima la Suzuki e adesso probabilmente la sta facendo la KTM che sta un po' copiando la stessa filosofia della Suzuki cioè quella di fare due stagioni di test e poi di iniziare con una wildcard per poi entrare in maniera pesante la stagione successiva. cioè è difficile fare sviluppo con il regolamento attuale anche con le deroghe che ci sono adesso però con l'obbligo di dover fare i 18 grand premi è veramente difficile fare sviluppo perché poi per fare sviluppo è chiaro che diciamo bisogna conoscere tutti i circuiti però è anche logico che è molto difficile sviluppare la moto su piste continuamente diverse perché su piste continuamente diverse continuano ad uscire problemi nuovi e quindi non si sa più dove andare a lavorare per cui sarebbe molto più logico stare concentrati su un circuito, fare andare forte la moto lì, continuare a provare, continuare a sviluppare la moto in quei fondamentali lì e poi arrivare alle gare con un livello di preparazione di setting molto più alto. il sorriso ci torna se guardiamo a moto 3 e moto 2 soprattutto in moto 3 con la sorpresa di Gian Antonio Pecco Bagnaio bravissimo al terzo posto ma di Gian Antonio ma da dove spucca? sì allora faccio una piccola parentesi su Pecco Bagnaio che secondo me è fortissimo perché lui guida una moto che è inferiore rispetto a KTM e Honda quindi bravissimo Pecco di Gian Antonio è un personaggio straordinario, simpaticissimo, ha 17 anni, viene da Roma lui al Mugello era andato fortissimo l'anno scorso nel Cive, mi sembra che sia suo il record della pista del Cive quindi la conosce molto bene, era andato subito forte da venerdì che era davanti, era terzo, quarto io pensavo che si trovava lì davanti perché erano andati piano relativamente piano perché c'era stata la pioggia si è girato poco e insomma invece è stato sempre lì davanti perché è stato davanti anche in qualifica poi il dodicesimo retrocesso al sedicesimo posto perché aveva aspettato durante le qualifiche ma in gara è stato straordinario, è stato straordinario come tutti devo dire, il diciannovesimo è arrivato a due secondi e sette se non sbaglio, una roba pazzesca spettacolo grandioso, però insomma vederlo correre sembrava un esperto, sembrava un veterano cioè non ha sbagliato niente, è stato in testa anche al Gran Premio effettivamente rispetto a tutti questi ragazzini Binder sembra un cinquantenne quasi pronto per la pensione e poi ha 21-22 anni, comunque bravo perché nell'ultimo giro ha fatto dimostra una dote d'esperienza che sembra veramente un Matusalemme rispetto a tutti questi ragazzini e poi Lorenzo Valdassarri anche lui ha rischiato di vincere su due e mezzo, un grande Zarco ci ha voluto Zarco è stato molto molto determinato nell'ultimo giro, nell'ultimo giro ha fatto un paio di sorpassi molto molto aggressivi però Lorenzo mi piace molto, è un altro di quelli che apprezzo molto lui aveva iniziato, lo ricordato, col Team Resini in Moto2, faceva molta fatica la VR46 Academy ha creduto in lui, sembrava anche un po' una forzatura, invece il pilota è forte è vero sottolineare che ci sono un po' queste, tra Misano e Pesaro, ci sono queste due scuole una è la famosissima VR46 Academy e l'altra poi è questa scuola che poi io seguo un po' dell'amico Cecchini che l'anno scorso ha tirato fuori Bastianini, quest'anno c'è di Gian Antonio due anni fa e quindi sono queste due situazioni da dove si sfornano i talenti del futuro probabilmente se ci ricordiamo le gare della moto 3-2 anni fa facevamo fatica a fare quinto o sesto altro che, prossima gara, parliamo della prossima, domenica 5 giugno si corre a Barcellona, al Montmelò di Barcellona che è il premio di Catalogna, l'anno scorso vinse Lorenzo su Rossi e Pedrosa Rossi ha vinto sei volte qua, allora pista di 4700 metri, il rettilineo è quasi come quello di Mugello 1047 metri, pista che per certi versi assomiglia molto simile una volta con i due tempi, addirittura si faceva qualche click a livello di settaggio tra Mugello e Barcellona, adesso si fa un po' più di lavoro perché i MotoGP sono più sviluppati a livello tecnologico e quindi hanno bisogno di più messa a punto specifica però sono caratteristiche molto simili, anche l'asfalto è molto diverso quindi c'è da aspettarsi che Michelin non abbia problemi neanche qui, almeno speriamo perché al Mugello obiettivamente non ci sono visti tutte qui c'è un po' di siling anteriore non perfetto però no, bella prestazione promossa pieno di grotto la Michelin finalmente non le possiamo non parlare però a Barcellona io a differenza degli ingegneri temo che ci possa essere qualche problema in più di grip soprattutto se dovesse essere molto caldo perché io mi ricordo che l'anno scorso in passato con le Bridgestone c'erano stati qualche problema però Mugello e Barcellona sono piste amiche della Michelin ecco a livello storico diciamo che teoricamente non sono abbastanza agevolati ci possiamo aspettare un equilibrio sostanzialmente come il Mugello sulla carta ci ha dato? beh in prova sicuramente ricordiamo che l'anno scorso in prova la Suzuki fece prima e secondo quindi potrebbe essere una delle favorite per le qualifiche io mi aspetto la Ducati che era forte quindi sì, io mi aspetto un equilibrio un po' come quello del Mugello da divertirsi speriamo che non ci siano motori arrosti benone allora grazie Giovanni naturalmente grazie a te Niko preziosissimo quasi quanto l'ingegnere una star ormai una star bravo Giulio Benone bravi anche voi che ci avete seguito fino a qui l'appuntamento per martedì 7 giugno ciao 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 ciao